Dall'incontro tra due pietre di intensa bellezza nasce Arki Style, nuova e emozionante esplorazione nel mondo del design ispirato alla materia naturale. Al fascino minimale di una limestone, con inclusioni di fossili che animano delicatamente il fondo, Arki Style sposa una accattivante rivisitazione del terrazzo, punteggiata da scaglie multicolor per un effetto di contrasto molto raffinato. Due suggestioni materiche che spiccano per una sorprendente ricchezza di dettagli, frutto di accurati processi di studio della materia e innovazione tecnologica. e che trovano in formati iconici, come l'esagona e ricercati decori, un ulteriore elemento di valorizzazione estetica. Forte di questi elementi, Arki Style è la collezione ideale per puntare sull'effetto pietra, come segno di distinzione degli ambienti. Una proposta dalla gamma ampia e completa, che permette di realizzare sofisticate armonie in e out e si presta a ispirati abbinamenti con altri look materici. In perfetto equilibrio tra sensibilità naturale e ricerca stilistica, Arki Style veste gli spazi con un respiro spontaneo, confortevole ed elegante. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.